Vi devo parlare con voi, Don Paolo. Deve essere molto importante, perché anzi mi come un cavallo. Importantissimo, Don Paolo. Mi sono innamorato. Bueno, non è molto grave. C'è rimedio? No, no, che rimedio, Don Paolo, ma... Non voglio rimedio, voglio stare malato. Mi sono innamorato, innamorato, proprio, innamorato. Sì, ma di chi ti sei innamorato? Si chiama Beatrice. Ah, Dante. Non Paolo? Dante Alighieri. Si innamorò di una certa Beatrice. Le Beatrici suscitano amori sconfinati.